Sono Alessandro Capellozza, faccio parte della Corriperovigo da tre anni, questo è il terzo anno, principalmente mi occupo di preparare il percorso prima dell'evento del giovedì e alla fine di tutto mi occupo anche di tirare su il tutto. Se la Corriperovigo è un'azienda io magari sull'ufficio tecnico bar produttivo. Andrea mi prepara il percorso su mappa e poi io un paio di giorni prima inizio a mettere giù su carta i cartelli, a capire quanti volontari servono e quella oretta e mezza prima dell'evento inizio a fare il giro con la macchina o col pulmino a mettere giù i vari cartelli che i vari corridori trovano durante la strada e che avranno imparato a conoscere. A volte prepararlo è molto molto dura anche per questioni di tempo, è sempre una corsa contro il tempo. La cosa bella, quella che mi dà entusiasmo, è sentire commenti positivi sul percorso insomma e quando viene fuori bene e quando appunto tutto fila liscio è sempre una bella soddisfazione. Ogni tanto qualcuno si perde però da parte nostra si fa sempre il possibile insomma perché tutto si è preparato al meglio. Ogni tanto fa dispiacere invece sono i commenti negativi sul percorso eccetera eccetera e magari la gente a volte non sa che ci sono tanti problemi anche burocratici di permessi oppure di disponibilità anche di volontari. Se qualcuno vuole unirsi per fare il volontario è ben accetto insomma. Sicuramente io cerco di fare proprio come mia attitudine personale il meglio che posso insomma e non mi tiro mai indietro se c'è un po' in più da fare per rendere la cosa un po' meglio di come poteva essere prima. Cos'è per me la Corri per Ovigo? Prima di tutto è un gruppo di amici è un'occasione per stare coi ragazzi due volte a settimana. Io sono entrato questo in gruppo che non conoscevo nessuno e alla fine ho trovato un gran bel gruppo di persone che sono una bella spinta per il sacrificio che va affrontato. La forza del gruppo, la forza di fare le cose insieme agli altri è una bella spinta.